ciao sono michela mitrani e questo è credi crea il podcast che vi aiuta a produrre pubblicare e pubblicizzare indipendentemente le vostre opere in questo podcast intervisto creatori imprenditori ed influencer allo scopo di fornirvi le risorse e gli strumenti necessari per diffondere le vostre idee e vendere i vostri prodotti oggi ospito qui a credi crea abel montero un self publisher che da anni orbita attorno alla letturatura di genere soprattutto fantastica abel è uno dei fondatori del podcast augmented ed è inoltre un autore che negli ultimi due anni ha avuto un grande successo su wattpad abel benvenuto a credi crea e grazie per averci dedicato un po del tuo tempo ciao michele grazie per avermi invitato e ciao anche a tutti gli ascoltatori del tuo podcast per me è un onore carissimo voglio iniziare con una domanda che ho fatto alcune persone ma voglio assolutamente il tuo punto di vista su questa che cosa ti ha spinto ad iniziare la strada del self mi ha spinto una serie di riflessioni che ho fatto perché come ha detto bene nell'introduzione io ho orbitato attorno all'ambiente dell'editoria della letteratura di genere per tanto tempo prima di decidere di condividere con gli altri le cose che avevo scritto osservando le dinamiche del mercato osservando lo stato delle altre pubblicazioni e i ritmi che hanno fatto gli altri scrittori che producono materiale che mi piace leggere mi sono fatto delle domande mi sono chiesto quante possibilità avevo di raggiungere un grande pubblico o gli editori pezzi da 90 italiani attraverso le cose che mi piace scrivere perché quando si decide di scrivere e condividere le cose le proprie i propri prodotti i propri figlioletti con gli altri bisogna anche chiedersi quante persone potrebbero essere interessate a leggerli e quindi bisogna essere onesti se si vuole che i propri prodotti siano letti bisogna chiedere bisogna chiedersi chi potrebbe pubblicarli allora io sapevo che le cose che mi piace scrivere che mi sarebbe piaciuto leggere erano un pochettino un po tanto fuori da alcune leggi di mercato e da alcune dinamiche della pubblicazione sapevo che anche se molte persone avrebbero potuto apprezzare i miei lavori sarebbero state altrettante le case editrici che si sarebbero fatte quattro risate considerandoli assolutamente impropolimbili e quindi ho deciso di fare da me sono arrivato al self publishing attraverso un percorso un po tortuoso non mi sono subito fiondato su amazon o sugli altri servizi di autopubblicazione però ho deciso di tenere sotto controllo quello che creavo di pubblicizzarlo da me per avere il controllo artistico al cento per cento di quello che producevo e senza dovermi necessariamente piegare ad alcune leggi di mercato perché un prodotto deve essere può piacere ma deve essere vendibile a volte per essere vendibile deve essere molto diverso dall'idea di base a me questa questa necessità di condividi modificare così tanto l'idea di base dei miei racconti non piaceva e allora mi sono detto che avrei avuto molto più rispetto di me stesso provando a fare da solo ed è esattamente quello che ho fatto allora come giusto che sia questo è un episodio di sommovimento dello status quo che a noi indipendenti insomma ci piace quindi è una storia di successo che vogliamo sponsorizzare anche in questo podcast e vorrei chiederti adesso sei un indipendente da non moltissimo tempo se non erro da agosto se non sbaglio da questo è giusto quindi penso che tu sia una persona molto indicata per rispondere a questa domanda abel la domanda è questa quali sono le cose che tu ti chiedi più spesso ma a cui non riesci non riesci proprio a trovare una risposta proprio quando si tratta di self publishing insomma quelle cose che magari vorresti sapere per promuovere più efficacemente i tuoi libri ma che mancano nel panorama indipendente italiano è una bella domanda e ti rispondo in maniera molto semplice nel senso che è una sola la cosa che mi piacerebbe sapere proprio perché io mi sono preso questo tempo da appassionato prima e poi da da osservatore quindi conoscendo un po quali sono le dinamiche ho avuto anche il piacere di collaborare con altri scrittori indipendenti quindi sono stato tutto quello che mi incuriosiva grazie al cielo l'ho scoperto mi è stato detto perché ho trovato delle persone molto generose che mi hanno aiutato quello che continua a chiedermi e che mi piacerebbe poter poter sapere meglio è che tipo di percezione ha il pubblico persone che ci pubblichiamo da soli persone che siamo autori indipendenti e mi spiego meglio ti dico che ovviamente io mi riferisco ad una fetta di mercato molto specifica che è quella di chi legge fantascienza c'è lo zoccolo duro è molto limitato insomma i numeri non sono piccoli come si dice nel senso che i numeri sono consistenti e ci sono casi editrici che vivono praticamente pubblicando e vendendo solo fantascienza il problema è nell'atteggiamento che si ha verso il genere e lì entraremmo in un argomento da cui non usciamo mai un pantano la realtà di questo pubblico quindi che potenzialmente legge pubblicazioni indipendenti e quindi ancora più piccolo ma pubblicazioni indipendenti anche dal punto di vista della fantascienza e quindi è una fetta ancora più contratta io mi chiedo e mi piacerebbe sapere essere una mosca per spiare e che percezione hanno i lettori del dello scrittore che si autopubblica nel senso che so per sentito dire per chi scrive altri generi chi scrive magari romanzi rosa romanzi storici o thriller che c'è questa distinzione netta che i lettori diventano sempre più alfabetizzati e capiscono subito se si tratta di una pubblicazione professionale di una pubblicazione che è passata attraverso l'editoria o se è una pubblicazione indipendente perché i lettori diventano sempre più specializzati soprattutto quelli che comprano su amazon che sono molto diversi da quelli che comprano i libri in libreria ok io mi chiedo il lettore appassionato di fantascienza quando si trova la classifica su amazon o va sulle novità o fa il suo surfing fra i vari suggerimenti di amazon come si comporta come 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 percepisce un autore che si è pubblicato indipendentemente per lui è un vantaggio e uno svantaggio perché capisco io di non fare testo io sono un entusiasta mi piacciono le novità e quindi che tu sia stato pubblicato da fanucci editore buonasera fanucci se ci ascolti ti vogliamo bene o se sei stato pubblicato da vattelappesca editore a me non interessa anzi se ti sei pubblicato con kdp e sei un indipendente per me è ancora meglio perché vorrei sostenerti ma questo fa parte della mia natura e capisco che questo non è la natura del 90 per cento delle persone che ci ascoltano o che che leggono quindi mi piacerebbe sapere quando tu vedi che nella mia copertina non c'è il logo di mondadori non c'è il logo di son sogno o di chiunque altro per te è un plus o è uno svantaggio e in realtà non ci sono esatto perché cosa cambia perché come ti ho detto essendo uno che ha orbitato attorno a questo ambiente molto prima di cominciare a condividere i propri lavori vedo che è la percezione che sia del pubblico dell'editore indipendente dell'autore indipendente nei mercati inglesi americani australiani quelli che generalmente parlano e leggono inglese è completamente diverso certo certo c'è linda nagata che ha vinto un premio nebula due anni fa essendo un editore indipendente gli autori indipendenti in america possono partecipare agli stessi concorsi a cui partecipano gli autori con case editrici come no c'è becky chambers che è arrivata adesso su fanucci fanucci ti voglio bene ma hai fatto una copertina orribile per adattare questo romanzo becky chambers non è pubblicata da nessuno è un autore indipendente e ha vinto se non sbaglio è fra gli ultimi classificati dei premi hugo quindi mi chiedo in italia la gente che vede che mi sto pubblicando da solo quella che non sa assolutamente nulla di me che non sa dei miei trascorsi cosa pensa non non so forse questo resterà un mio desiderio è un'ottima comunque osservazione che hai fatto secondo me molto molto buona io invito visto che c'è l'invito anche da parte tua ai nostri ascoltatori sicuramente nella versione di youtube ci sarà la sessione commenti e quindi vi invito a cercare di rispondere a questa domanda di abel adesso che cosa pensate voi ditelo ditelo ad abel fatelo sapere agli altri ascoltatori di credit care che cosa pensate del self publishing che cosa vi passa nella testa quando vedete quel tipo di libro su KDP c'è un po più di non dico odio ma c'è un pochino più di persone che magari pensano hanno dei preconcetti oppure le persone che vogliono sostenere e ovviamente tu con questa cosa qui giochi in casa perché credit care essendo un podcast su self publishing platform building è una cosa che deve essere trattata insomma quindi la domanda che tu hai fatto io la rivolgo ai nostri ascoltatori ho esposto un nervo un punto dolente che piacerebbe a tutti conoscere meglio senti abel adesso parliamo un pochino un po di più della tua esperienza con wattpad dai e potresti spiegare agli ascoltatori che non lo conoscono che cos'è esattamente questo wattpad e come funziona con grande piacere come ti dicevo io ho deciso di fare la gavetta dal punto di vista autoriale ma anche per imparare un po come rapportarmi con il pubblico ho deciso di fare un percorso tortuoso prima di gettare il mio romanzo nel mare magnum che è amazon ho conosciuto per caso questa piattaforma che si chiama wattpad wattpad è fondamentalmente un social network dove si possono leggere libri gratis si possono leggere questi libri attraverso il browser da internet molto banalmente ci si scrive con email e password ed è completamente gratuito o si possono leggere gli stessi libri sulle applicazioni quindi per tablet o cellulari si scarica questo sito ci si scrive e il sito molto da subito ti chiede quali sono i tuoi generi preferiti e quindi poi ha una suddivisione in in argomenti e ci si si cercano i romanzi che piacciono in italia purtroppo è un sito che ha avuto per un certo periodo e purtroppo in una certa porzione continua ad avere una brutta nomina perché siamo uno dei pochi paesi forse l'unico in cui gli utenti di wattpad si ostinano a caricare libri craccati quindi c'è chi si prende la briga di andare a scansionare pdf o di andare a scardinare gli dirrem degli ebook che ha trovato in altri modi o che ha comprato e a caricarli poi ovviamente il supporto del sito o gli altri lettori più coscienziosi dopo un po' beccano questi romanzi e quindi dopo un po' svaniscono ma per un po' di tempo questo ha regato un certo danno agli autori di libri tradizionali quindi io lo conoscevo così ammetto ignoranza lo conoscevo dove dove come l'applicazione in cui si leggono i libri craccati poi per parlando con un utente un'altra utente di questa applicazione ho scoperto che in realtà il 90 per cento degli scrittori o del materiale che si trova su wattpad è originale quindi scritto da persone che hanno progettato quelle storie per essere pubblicate lì e allora ho provato sono andato a spulciare e ho trovato delle cose molto interessanti e dopo un po' andando a familiarizzare con gli strumenti di pubblicazione ho pensato che forse potevo mettere anche i miei lavori su wattpad che è una piattaforma che premia la serialità perché mi spiego c'è la categoria fantascienza ad esempio che è quella che mi riguarda e c'è la classifica con i mille romanzi più letti che sono quelli che hanno più visualizzazioni e più il più alto gradimento ok lì si il gradimento si dà per stelline ogni capitolo è suddiviso ogni libro è suddiviso in capitoli ogni capitolo può essere votato se ti piace con la tua stella e sotto sotto ogni capitolo c'è un ampio spazio per la discussione addirittura le singole frasi dei periodi che hai scritto possono essere commentate e ogni frase può generare un dibattito lo dico per esperienza personale ci sono colpi di scena morti o baci in consulti all'interno del romanzo che hanno generato 700 commenti con gente che si scannava dicendo la sua opinione su quel passaggio ovviamente per uno scrittore indipendente è uno scrittore che ha poca esperienza vedere questo tipo di risposta dal pubblico è una manna è una manna per l'ego perché ti fa sentire il novello certo commenti per una frase quando uno non ha una recensione per un libro magari caspita ma è anche utile perché se è vero che la maggior parte degli utenti di questa piattaforma sono sommamente giovani quindi adolescenti e per quanto gli vogliamo bene ciao lettori di wattpad vi voglio bene per quanto gli vogliamo bene non è che ti possono dare chissà quale feedback critico certo è anche vero che se dedichi una ragionevole quantità di tempo alla pubblicazione su wattpad poi sparando nel mucchio trovi anche delle persone che hanno magari un'opinione più articolata sul tuo prodotto e possono aiutarti a migliorare quindi io devo dire la verità che in due anni avendo pubblicato regolarmente settimanalmente diversi capitoli a settimana e quindi tra parentesi si innesca il meccanismo della serie tv perché difficilmente trovi il romanzo già completato lo trovi in corso d'opera quindi ti arriva una notifica sul cellulare quando hai messo il tuo romanzo in biblioteca per cui ogni volta che esce un nuovo capitolo lo vai a leggere quindi scusa tu hai scritto diversi capitoli a settimana addirittura sì 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 perché io avevo già nel cassetto una quarantina di pagine e poi avevo un libro nero con il mio world building con quello che mi sarebbe piaciuto mettere nella storia o in tante altre storie perché avevo fatto questo grosso lavoro di ricerca prima di scrivere ma mi ero sempre arenato perché mi bloccavo mi dicevo che quello che ho scritto faceva schifo non riusciva andare da nessuna parte o c'erano degli snodi narrativi da cui non riuscivo a venire a capo e quando ho messo il primo capitolo il prologo e il primo capitolo sono entrato nella classifica nella top 10 dei romanzi più letti d'italia nel giro di una settimana e ci sono rimasto per un anno dopo un anno ho completato ci sei rimasto ci sei rimasto pure psicologicamente per un anno sì ci sono rimasto no il bello perché ti dico che è utile per chi è uno scrittore che ha poca esperienza fondamentalmente perché se tu sei uno scrittore che hai già che ha già pubblicato o hai già diversi romanzi sulle spalle l'opinione dell'adolescente medio italiano poco te ne fa e ti fa pure piacere che ti mette l'astellino ti dà il suo commento ti dice ti prego scrivi ancora quando pubblichi il prossimo aggiornamento ti farà anche piacere ma te ne sbatti abbastanza se invece sei uno che non è assolutamente sicuro che il materiale che ha pubblicato sia meritevole di essere condiviso questo tipo di incoraggiamento ti spinge ad andare avanti e poi trovi quelle persone che hanno uno spirito critico migliore che ti aiutano a capire se stai veramente sbagliando o se quello che scrivi ha davvero senso e queste persone ti aiutano a migliorare e se sei umile torni indietro e riscrivi tutto quello che non funziona e quindi questo è il meccanismo che ho fatto io un po' su Wattpad che mi ha aiutato ho completato ho cominciato a pubblicare il romanzo a puntate settimanalmente a novembre l'ho completato ad agosto e a ottobre ho vinto il premio Wattis che è il più grande concorso di letteratura online del mondo e ho sbaragliato altri 24 mila concorrenti. Wow questi sono numeri che però scaldano parecchio cioè sono numeroni e stiamo parlando di 4-5 cifre qui eh. Adesso a tutt'oggi adesso il romanzo è stato su Wattpad per due anni e adesso è presente solo in versione demo perché al momento in cui ho deciso di venderlo ho deciso che la sua corsa su Wattpad era finita quindi basta leggere a scrocco se volete leggerlo lo comprate è stato letto 200 mila volte e per chi non fosse pratico di questi numeri vi dico che l'editore medio piccolo italiano quando vende 350-400 copie del tuo romanzo di fantascienza va a stappare la champagne. Quindi se io ti dico che il mio romanzo è stato letto 200 mila volte dai miei 7500 follower su Wattpad ti sto dicendo che ho venduto più di tanti 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 lettori scrittori italiani che scrivono fantascienza e che purtroppo con la fantascienza non ci campano. Senti quindi abbiamo fatto diciamo questa questo profilo proprio del social media ce l'hai spiegato proprio per bene anche le features questa è un'ottima cosa per persone che come me io l'ho rosicchiato utilizzato un pochino così ma non ci ho mai davvero creduto come diremmo qui in anglosassolandia I never put my heart in it non ci ho messo il cuore dentro però mi hai dato davvero un bel po' di materiale su cui pensare e c'ho una domanda adesso che mi forde diciamo così sporge spontanea c'è una categoria di persone che secondo te a cui potrebbe essere utile questa piattaforma o è utile per tutti indistintamente? È utile per tutti ma bisogna avere le idee chiare su ciò che si desidera avere di ritorno da questa piattaforma perché io ti ho parlato della mia esperienza personale ma riferita a questo mio genere nella fantascienza c'è anche gente che scrive narrativa generale perché è categorizzata così su Wattpad o storie d'amore o romanzi rosa che si è portata a casa 4 milioni di visualizzazioni c'è Francesca Vanessa Arcatipane una mia conterranea isolana sicola che ha scritto una storia d'amore paranormale che adesso vende i suoi romanzi da autrice indipendente che con ognuno ha fatto almeno due milioni di visualizzazioni quindi ovviamente si parla di generi diversi se si va su Wattpad perché bisogna diventare famosi e questo è un po' un cancro degli ultimi anni perché man mano che la piattaforma diventa più ampia diventa più grande ci va sempre più gente ci entrano sempre più ragazzini e i ragazzini vogliono diventare famosi perché vivono sui social network in un modo in cui noi non riusciamo a immaginare perché non fa parte della nostra cultura di base allora loro se ci vanno con quell'obiettivo si bruciano perché non hanno l'umiltà necessaria non sanno scrivere non hanno le idee chiare e quindi dopo un po' gli viene la depressione perché non li legge nessuno ok se invece ci vai perché lo vedi come una palestra perché vuoi raccogliere feedback e non ti scoraggi se all'inizio non ti legge nessuno e soprattutto hai una buona idea e vuoi che questa buona idea sei convinto di avere qualcosa di meritevole vuoi che sia messo alla prova quella la piattaforma perfetta perché troverai quelli che ti incoraggiano perché si sono affezionati al tuo romanzo e ti spingono ad andare avanti trovi i troll i leoni da tastiera che ti aiutano a farti la pelle dura e ti insegnano come devi rispondere ai troll o come non devi rispondere ai troll esatto poi trovi i raffinatissimi critici della domenica che si sentono i figliassi di Umberto Eco che ti fanno una critica letterale di 90 pagine su un tuo racconto di 200 parole magari che te lo distruggono però forse ti dicono anche qualcosa di ragionevole e ti aiutano a capire cosa non funziona e poi trovi i critici seri cioè quelli che stanno investendo del tempo perché credono nel valore del tuo racconto e ti aiutano e io ho nel corso del tempo nel corso di questi due anni il più grosso valore aggiunto è stato proprio questo avere questo zoccolo duro di utenti ma anche aver trovato delle persone che adesso dopo due anni mi fanno da editor mi fanno da proofreading sono delle persone che si che collaborano ci credono talmente tanto nei miei lavori sono talmente sono così invested si dice in inglese ci sono sono così appassionati del mio lavoro che a volte sono davvero la spinta più potente a venire fuori da quei momenti in cui pensi che il tuo lavoro non valga niente che penso che ogni autore ogni autore attraversa soprattutto chi è un indipendente no? quindi sì se vuoi fare palestra vai su wattpad se hai bisogno di feedback vai su wattpad se vuoi diventare anna todd quella scritta after che via ce ne scansi e liberi non ci andare perché non ci riesci e fondamentalmente non ne abbiamo neanche bisogno quindi no è un'ottima cosa che hai messo diciamo così diceva una buona piattaforma hai messo le mai davanti oltre al fatto di identikit è anche consigliato insomma se tu hai questo tipo di piano a lungo termine come ce l'avevi tu ce l'avevi delineato e vuoi avere questo tipo di feedback prima cosa sviluppa la corazza perché verrai attaccato una corazza bella potente può anche essere che questo attacco arrivi in maniera immotivata cioè è semplicemente una questione di invidia perché non è che necessariamente deve essere il ragazzino di 15 anni che ti dice una cattiveria può essere anche il quarantenne abrutito che non riesce a scalare la classifica che il modo peggiore per approcciarsi a questa piattaforma e allora scrive che ti fa delle recensioni negativissime o ti fa partire i flame all'interno dei commenti però sono delle cose che bisogna tenere in conto se bisogna se si vuole essere degli autori e quindi quello è un buon modo per fare un po di esperienza prima di andarli a vendere i propri romanzi o di chiedere alla gente di recensirli certo quindi per gli ascoltatori partire con umiltà piano a lungo termine per wordpad ricercare i feedback delle persone sensate ovviamente si imparerà sulla propria pelle quella che è diventata una corazza a capire quali sono i feedback buoni tra virgolette e feedback inutili o cattivi da troll però soprattutto quello che mi hai detto tu è la costanza cioè ci deve essere la costanza il tuo prodotto deve essere buono e soprattutto dovete voler cambiare e migliorarvi dovete voler crescere dovete voler condividere generosamente quello che state scrivendo dovete voler dare alla gente il meglio di voi stessi perché come come ti dicevo prima whatpad è fondamentalmente un social network e quindi se non si costruisce una buona immagine pubblica se non si è disponibili se non si risponde banalmente ai commenti e senti carissimo questa è una cosa ottima per noi e per gli ascoltatori adesso abbiamo veramente fatto la disessione di whatpad sappiamo cos'è e si spera anche come utilizzarlo però adesso vorrei diciamo così continuare con un'ultima domanda che si concentra su whatpad e tu hai detto per coltivare il seguito che cosa fare che cosa non fare ma che risultati ti ha dato magari anche in termini di vendite quando si è trattato di pubblicare le tue storie su amazon allora in realtà bisogna fare questa distinzione all'inizio e forse va fatta questo tipo di considerazione ancora prima di impiegare tempo ed energie a condividere i propri lavori gratuitamente su whatpad perché non c'è un reale ritorno economico c'è un buon ritorno di immagine ma per come vi dicevo prima siccome il la maggior parte dei lettori di quella piattaforma sono molto giovani non è detto che siano persone che mettono la mano al portafogli quindi se avete scritto un racconto che rientra all'interno dei generi che vi accennavo prima se sono storie d'amore se sono c'è addirittura un termine coniato proprio da quella piattaforma che poi è uscito da quella piattaforma che è teen fiction quindi le storie d'amore per adolescenti allora è molto probabile che se avete qualcosa di anche solo vagamente di buona qualità perché bisogna dirlo siccome è un mare magnum in cui pubblica chiunque ci sono anche tantissime storie di infima qualità che sono anche molto popolari perché sono lette da ragazzini che non capiscono la differenza fra un testo di qualità è un testo di 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 scarsa qualità e quindi diventano famose lo stesso se voi avete scritto quel tipo di di storia buono in quei generi allora potete avere un grosso pubblico se avete milioni di visualizzazioni è anche possibile che il signor mondatori si scomoda e viene a offrirsi il contratto come è successo per la signorina cristina chiperi o per altre e quindi lì c'è anche il ritorno economico perché se poi decidete di pubblicarvi da soli avrete letteralmente migliaia di persone che vorranno comprare il loro romanzo perché anche se conoscono la storia vorranno poter stringere la copia cartacea e quindi è una questione di feticismo ok se non arrivate a quei numeri come il mio caso sarà utile per tutti i discorsi che vi dicevo prima quindi avrete imparato a scrivere avete un piccolo zoccolo duro di utenti ma anche se avete 8.000 follower o 300.000 visualizzazioni non è affatto detto che poi ne venderete 300.000 copie io ne ho beneficiato dal punto di vista personale dal punto di vista di crescita autoriale e soprattutto ho potuto mettere in pratica alcune cose che ho studiato in maniera solo teorica perché è una preparazione da pubblicitario ok e ne ho beneficiato relativamente al punto di vista delle vendite perché ho avuto quel piccolo zoccolo duro di persone che qualsiasi cosa io scrivo cioè me l'hanno detto chiaro puoi scrivere anche la lista della spesa sulla carta igienica io lo compro ok quindi sì avete quel avete quel salvagente di persone che è talmente affezionato a quello che scrive quello che scrivete al vostro stile e a ciò che riuscite a comunicare che lo comprerà a prescindere questo vi porterà a non annegare all'interno del materiale del mare che è amazon o gli store di letteratura online se siete riusciti a scrivere qualcosa che ha sfondato il tetto del milione di visualizzazioni allora avrete anche il ritorno economico perché state sparando in un mucchio talmente grosso che ci saranno necessariamente 300 400 500 persone 1000 2000 che vorranno comprarlo e 2000 copie di un romanzo sono bei soldi non c'è bisogno che spieghi io il percentuale quanto guadagnare quindi io a chi scrive letteratura generale che non si riferisce a una nicchia specifica di pubblico lo consiglio vivamente wattpad chi invece scrive letteratura di genere e da si riferisce a una nicchia un po' più piccola come la mia quella della fantascienza magari e allora vi dico andateci con i piedi di di piombo perché se pensate che i vostri 8000 follower si tramuteranno in 8000 clienti vi state sbagliando di grosso e questa è una cosa molto importante da dire anche agli ascoltatori cioè non è che wattpad è una miniera d'oro dovete lavorarci dovete scoprirla prima che diventi una miniera d'oro senti carissimo purtroppo il nostro tempo sta per scadere però voglio darti la possibilità di riferirci se hai progetti in cantiere o libri in dirittura d'arrivo sì perché io ho fatto ho accumulato questo materiale su wattpad avendo scritto per due anni tantissima roba ho pubblicato una trilogia sto per pubblicare una duologia il 3 marzo esce la furia e le stelle è una ambientato alcuni anni prima a livello cronologico rispetto ai romanzi della trilogia del ragazzo bendato che è quello che trovate è un po più popolare su amazon quindi troverete la furia e le stelle e la fuga degli alfieri pubblicati fra febbraio e aprile di quest'anno e poi troverete alcuni romanzi che adesso sono leggibili su wattpad quindi in maniera gratuita e che fra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno diventeranno poi libri cartacei e tutti gli effetti saranno pubblicati attraverso amazon quindi potete seguirmi sul mio sito internet che è abelmontero.weebly.com potete seguire il mio profilo su wattpad dove potete leggere finché siete in tempo la versione gratuita dei miei romanzi e darmi i vostri feedback che sono sempre bene accetti io provo a rispondere a tutti anche se ormai non ci riesco più da diverso tempo da quando siete diventati così tanti e poi mi trovate su social network allora su questa nota io direi di darti un enorme ringraziamento abel e augurarti un titanico in bocca al lupo a te e a tutti i tuoi progetti futuri io spero che questo lupo mi scambi per uno dei suoi cuccioli che mi porti in bocca e ringrazio te ringrazio tutti gli ascoltatori del tuo podcast per avermi dato questa possibilità e se una piccola porzione di questi ascoltatori diventerà anche diventeranno anche i miei lettori sono ancora più contento cercheremo di funnel di mandare alcuni dei nostri ascoltatori sicuramente che sicuramente saranno interessati in base al contenuto che c'è di wattpad sicuramente di controllare quella piattaforma magari andate a verificare trovarla e diciamo che ci state ricordatevi del nome abel montero e adesso voglio ovviamente ringraziare voi ascoltatori per averci dedicato un po del vostro tempo se avete tratto valore da questo episodio come gli altri recensitelo su itunes o segnalatelo a altre persone per ora vi saluto e vi do un ottimo 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 ritorno di giornata e vi aspetto al prossimo episodio ciao 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 ciao